Buongiorno sono Raffaella e oggi vi presento questo cardigan realizzato con la lana stella di tre sfere filati. Ho scelto il colore 008, vi occorreranno 14 gomitoli di filato per realizzare un cardigan di misura 40-42 abbondante. Oltre alla lana vi serviranno un paio di ferri numero 9, una forbice e il solito nostro ago da lana con la cruna un pochino grossa per far passare ovviamente il filo. Incominciamo a lavorare insieme il dietro e vediamo come impostare il tutto. Una particolarità di questo capo è la passamaneria cucita sul colla scialle. Questo è facoltativo, nel caso voi voleste evitare di metterla, non c'è alcun problema, lavorate il collo a maglia rasata con il bordo a grana di riso. Se invece avete piacere di decorare ulteriormente questo capo perché vi sembra un pochino spoglio il collo, prendete circa tre metri di questa passamaneria o di un altro genere che troverete tranquillamente in merceria, affrancherete una parte all'inizio del collo così e farete delle piccole anse che cucirete come vedete per affrancarle a secondo del vostro gusto. Ora vediamo insieme il dietro. Per il dietro monteremo 44 maglie con i ferri numero 9 per cui cappietto di inizio faccio scivolare sul ferro e monto altre 43 maglie. Vediamo insieme. Allora faccio scivolare il filo sul pollice, l'altra estremità sull'indice, con il ferro entro attraverso l'asola, prendo il nostro filo che arriva dal gomitolo ed estraggo. Per cui nuovamente ferro di destra, entro a formare una sorta di asola, vado a prendere il filo che arriva dal gomitolo, carico il filo ed estraggo. nuovamente ferro di destra, entro a formare all'interno dell'asola che si è formata, vado a prendere il filo che esce dal gomitolo, carico ed estraggo. Faccio un totale di 44 maglie. Lavoreremo un bordo di due ferri a grana di riso semplice per l'avvio del nostro dietro. La grana di riso semplice vi ricordo che sono una maglia diritto e un rovescio per tutto il ferro che scambieremo sul rovescio del lavoro. Per cui vediamo insieme. La prima maglia sempre di vivagno, la prendo a diritto e non la lavoro. Sotto mi trovo un diritto, perciò lavorerò un rovescio. La maglia successiva è un rovescio, per cui lavorerò un diritto. Esaurite tutte le maglie del ferro. Procederemo ad impostare la lavorazione e a vedere come eseguirla. Imposteremo la lavorazione su un multiplo di 5 maglie, per cui come vedete il report sarà questo, 2 maglie a rasato diritto e 3 maglie a grana di riso semplice. Allora, imposteremo ora la lavorazione. Già dal primo ferro noi dobbiamo aumentare lateralmente una maglia all'interno della prima e dell'ultima maglia e successivamente, ovviamente, impostare quello che è la lavorazione vera e propria sul resto delle maglie. Per cui vediamo ora come fare. La prima maglia la considero di vivagno e la faccio passare sul ferro di destra senza lavorarla. Ora devo aumentare una maglia all'interno della prima e della seconda. Visto che la maglia che mi ritrovo qui dovrò considerarla e lavorarla a grana di riso, perciò l'aumento io dovrò ovviamente lavorarlo a grana di riso. Come vedete ho un rovescio qua e di conseguenza io dovrò lavorarci un diritto, per cui l'aumento verrà lavorato a rovescio. Come vedete vi rifaccio vedere ho preso l'anellino, l'ho portato sul ferro di sinistra, lavoro a rovescio e questo è il nostro aumento. La maglia successiva dovrò lavorarla diritta, perciò farò un diritto crociato ed ora dovrò impostare la lavorazione, per cui due maglie a rasato diritto che corrisponde alla nostra colonna e successivamente tre maglie a grana di riso, per cui come vedete qui sotto un dritto, lavoro un rovescio, un dritto, un rovescio e procedo a lavorare ripetendo questo report che abbiamo visto, per cui due maglie a rasato diritto e tre maglie a grana di riso, un diritto, un rovescio e un diritto. Ci rivediamo alla fine della riga per vedere come impostare l'altro aumento. Sono arrivata alle ultime due maglie, io ho fatto le tre precedenti a grana di riso, dovrò lavorare un diritto e ora devo fare l'aumento, per cui prendo come vedete l'anellino sotto, lo faccio passare sul ferro di sinistra, lo ruoto leggermente, ci lavoro un diritto e termino con un diritto che è la nostra maglia di vivagno. A rovescio dovete prestare attenzione, per cui fate bene attenzione a lavorare le maglie a grana di riso e le due a rovescio, per cui la nostra maglia di vivagno, io so che le prime due sono a rovescio nell'eventualità che non vi troviate, date comunque un'occhiata sul diritto del lavoro e capite esattamente dove intervenire. Dovrò proseguire con le tre a grana di riso semplice, per cui dove c'è rovescio lavoro diritto, poi proseguo con un rovescio e un diritto. Nuovamente due rovesci che sono le nostre coste e poi proseguo ovviamente a lavorare a grana di riso sulle tre successive e via via. Dovremmo ripetere questi aumenti nel corso del terzo ferro, settimo e undicesimo. Attenzione, quando noi andiamo ad aumentare, adesso ve lo faccio vedere sul diritto, dovete ricordare di estendere la lavorazione, per cui se all'inizio abbiamo incominciato con la grana di riso dovete ovviamente aumentare le prossime due maglie di aumenti, per cui terzo, settimo e undice, per cui altre tre maglie, estendendo la lavorazione, per cui dopo aver terminato le tre a grana di riso dovete ricordarvi che dovete aprire la lavorazione sulle coste. Lo stesso vale per la sinistra. Se ho lavorato adesso le due maglie a coste dritte dovrò ampliare la lavorazione lavorando a grana di riso, per cui estendendo i prossimi tre aumenti sulle tre maglie a grana di riso. Una volta che noi abbiamo effettuato questi aumenti, per cui dal dodicesimo ferro noi lavoreremo su tutte le nostre maglie ricalcando quella che è la impostazione, per cui coste dritte, grana di riso e via via. Arrivando al ferro numero 62 noi dovremo sul davanti, per cui nel ferro 63 impostare la lavorazione degli scalfi. Vediamo insieme ora come farla. Poniamo che io abbia lavorato i miei 62 ferri a coste fantasia, chiamiamoli così, e dovrò nel ferro 63 preparare gli scalfi. Cosa faremo? Intreceremo quattro maglie per lato. Come? Semplicemente così. Sempre la nostra maglia di vivagno che non lavoreremo e facciamo passare sul ferro di destra. Dopodiché se io ho della grana di riso o delle coste lavorerò a secondo di quella che mi richiede la lavorazione sottostante, per cui in questo caso io ho un diritto, lavorerò un rovescio e accavalerò la maglia non lavorata alla successiva e io ho diminuito una maglia. Proseguo con un diritto e accavallo la prima alla seconda maglia e sono due. Proseguo con un diritto, accavallo la prima alla seconda e sono tre. Proseguo sempre con un diritto, accavallo la prima alla seconda e io ho intrecciato le mie quattro maglie per lo scalfo. Proseguirò lavorando ciò che mi richiede la lavorazione per cui se sono sulla grana di riso come in questo caso proseguirò lavorando grana di riso oppure sulle coste a diritto. Nel ferro a rovescio faremo la stessa cosa ovviamente per come si presentano le maglie per cui intreccieremo quattro maglie anche da questa parte. Sulle maglie rimanenti io proseguirò ovviamente lavorando e rispettando quello che è la nostra lavorazione a coste fantasia fino al ferro 86 compreso. Nel ferro 87 noi dovremo sbiecare le spalle e come faremo? Semplicemente intreccieremo come visto per lo scalfo una volta cinque maglie per cui sia da un lato che dall'altro. Nel ferro 89 ne intreccieremo altre cinque per cui ferro 87 cinque maglie, ferro 89 cinque maglie da entrambi i lati. Nel ferro 91 ne intreccieremo quattro per cui la sequenza è cinque cinque quattro come dall'altro lato cinque cinque quattro. Una volta che io ho intrecciato le quattro maglie sul rovescio per la terza parte della sbiecatura mi rimarranno ovviamente le maglie che serviranno per formare il collo e nel ferro 93 le intreccerò come si presentano per cui le maglie che sono sulle coste le intreccerò a diritto e rispetterò le maglie della lavorazione a grana di riso e il nostro dietro è terminato. Ci vediamo ora per affrontare i davanti. Lo step successivo sarà quello di realizzare il davanti destro. Per realizzare il davanti destro monteremo 22 maglie sempre il nostro cappietto facciamo uscire tiriamo leggermente facciamo passare il cappietto sul filo e andiamo avanti a montare altre 21 maglie per cui prendo il filo sotto il pollice con l'indice mi porto il filo del gomitolo carico e tiro vediamo nuovamente asola sul pollice l'indice prende il filo dal gomitolo porto il ferro sotto entro formando un'asola prendo il filo dal gomitolo estraggo faccio cadere tiro nuovamente asola sempre il filo dal gomitolo tra l'indice e il medio vado a prendere l'asola carico il filo estraggo tiro e io ho montato il mio punto proseguiamo così fino ad avere 22 maglie totali lavoreremo come per il dietro due ferri a grana di riso semplice per cui ferro primo ferro maglia di vivagno senza lavorarla prendendola diritto e proseguo con un diritto e un rovescio per tutto il ferro un diritto e un rovescio fino ad esaurire le maglie che ho sul ferro terminata il primo ferro dovremmo ovviamente lavorare il secondo e andremo a scambiare come detto in precedenza i punti che io mi trovo sul ferro per cui maglia di vivagno la passo sul ferro di destra senza lavorarla mi trovo un diritto lavorerò un rovescio mi trovo un rovescio lavorerò un diritto scambierò le maglie così per tutto il ferro e questa è la nostra grana di riso una volta terminato il ferro successivo ovviamente lavoreremo impostando la lavorazione a costa e fantasia come vedete noi abbiamo impostato la lavorazione per il davanti destro per cui andiamo poi successivamente a sbiecare il collo da questo lato e gli aumenti che adesso faremo li faremo a sinistra nel prossimo ovviamente nell'altra metà del davanti dovete lavorare a specchio per cui aumenterete sulla destra e diminuirete sulla sinistra ora vediamo un attimo come impostare la lavorazione faccio scivolare sempre la mia maglia di vivagno e lavorerò un diritto proseguirò con tre maglie a grana di riso 1 2 e 3 procedo poi con due diritti 3 maglie a grana di riso 1 2 e 3 ancora due maglie diritto che sono le nostre coste dritte proseguo con tre maglie a grana di riso 1 2 e 3 sempre due maglie a grana di riso 1 2 e 3 ora nel primo ferro io dovrò lavorare un aumento a sinistra per cui dovrò estendere ovviamente la lavorazione sui punti che noi andremo ad aumentare ora terminate le tre maglie a grana di riso e devo lavorare le due maglie a coste per cui lavoro la prima maglia diritto che è metà della nostra lavorazione a coste e poi vado ad aumentare una maglia sempre col mio ferro vado a prendere il filetto che trovo sotto lo porto sul ferro di sinistra entro lavoro una maglia diritto e io ho lavorato la mio aumento termino con una maglia di vivagno che io lavoro sempre a diritto nel ferro successivo fate attenzione ovviamente a mantenere il lavoro a coste per cui maglia di vivagno lavorerò due rovesci che sono le nostre coste proseguirò con tre maglie a grana di riso 1 2 e 3 vi ricordo sempre di scambiare le maglie ad ogni ferro proseguirò con le coste e terminerò la mia mio ferro con una maglia di vivagno lavorato a diritto dovrò aumentare nuovamente a sinistra nel ferro 3 7 e 11 su queste maglie che io ammonterò dovrò estendere la lavorazione per cui se io ho le coste 2 a diritto vedete la maglia che andrò ad aumentare le altre tre che dovrò aumentare le lavorerò a grana di riso una volta che io ho terminato i miei aumenti sulla parte sinistra manterrò la lavorazione data e lavorerò un totale di 52 ferri al ferro 53 noi dovremmo sbiecare il collo come faremo dovremo diminuire una maglia internamente alle due alle prime due ok come faremo sempre una maglia di vivagno io manterrò una maglia diritto che metà costa e poi dovrò lavorare due maglie insieme rispettando ovviamente la grana di riso per cui come vedete io se devo lavorare due insieme vado a lavorare un diritto perché poi dovrò lavorare un rovescio perciò lavorerò due insieme a diritto dopodiché lavorerò con l'impostazione data fino alla fine della riga per cui sempre due a diritto che sono le mie coste proseguo con tre a grana di riso e via via fino a terminare la riga ripeteremo la diminuzione dello scollo per cui i due insieme a diritto dopo le prime due maglie al ferro 59 dopodiché proseguiremo sulle maglie rimaste rispettando la lavorazione fino al ferro 63 al ferro 63 dopo aver lavorato un ferro sul diritto sulle maglie che ci sono sul nostro ferro io dovrò intrecciare sul rovescio del lavoro visto che parlo del davanti sinistro dovrò intrecciare tre maglie per la preparazione dello scalfo per cui come fare sempre la nostra maglia di vivagno non lavorata io in questo caso seguo la lavorazione che ho sotto per cui lavorerò un rovescio e a cavallerò la maglia non lavorata proseguirò nel mio caso lavorando un rovescio e a cavallo la maglia la prima maglia che ho sul ferro proseguo con un diritto e a cavallo la maglia la prima maglia che ho sul ferro e io ho intrecciato le mie tre maglie per lo scalfo proseguirò terminando la riga rispettando la lavorazione una volta che io ho terminato e lavorato per lo scalfo dovrò seguire per cui a questo punto prendetevi carta e penna perché almeno così sapete al numero della riga in cui dovete comunque intrecciare diminuire ok le due maglie per lo sbieco del collo per cui carta e penna e vi dico che dovete diminuire nuovamente all'interno delle prime due maglie al ferro 65 71 75 79 83 e 87 arrivati al ferro 87 per lo sbieco del collo non ci sono più maglie da diminuire e al ferro 88 per cui sul rovescio del lavoro noi dovremo sbiecare le spalle intreccieremo una volta 5 maglie per cui come abbiamo visto prima l'intreccio proseguite nuovamente intrecciando 5 maglie al ferro 90 sempre sul rovescio del lavoro altre 5 maglie al ferro 92 se avete fatto tutto giusto e avete seguito la diminuzione che io vi ho dato il numero delle diminuzioni da fare dovreste trovarvi quattro maglie che intreccieremo tutte in una volta e il no la nostra metà davanti è terminata ovviamente dovete fare anche l'altra parte lavorando la specchio per cui girando quello che è la lavorazione adesso vediamo se io riesco a farvi vedere l'altra metà imposterete a rovescio la lavorazione ok e per eseguire le diminuzioni da questo lato dovete fare un accavallato semplice sempre all'interno delle ultime due maglie per cui sul davanti destro abbiamo diminuito dopo le prime due mentre sul sinistro diminuiremo all'interno delle ultime due ovviamente lo scalfo sarà fatto sul diritto come la svegatura delle spalle e il nostro davanti è terminato prossimo step sono le maniche per la manica ho avviato 37 maglie e ho lavorato sempre i nostri due giri a grana di riso semplice per formare il nostro bordino proseguiremo ora impostando la lavorazione per formare il nostro risvolto per cui ovviamente come vedete sarà fatta a rovescio rispetto alle coste diritto perché una volta risvoltato il lavoro dovrà essere consecutivo bene vediamo insieme come fare allora sempre la nostra maglia di vivagno e anziché cominciare con un diritto inizierò con un rovescio proseguirò con tre maglie a grana di riso 1 2 e 3 e proseguirò con due maglie a rovescio che sono la nostra costa proseguo sempre con tre maglie a grana di riso 1 2 e 3 e due maglie a rovescio per la nostra costa lavoriamo così per tutto il ferro e termineremo con una maglia rovescio e una maglia di vivagno dovremo lavorare con questa impostazione per un totale di otto ferri dopo di che vedremo come proseguire bene poniamo ovviamente per esigenze di tempo che io abbia già terminato i miei otto ferri per il mio risvolto dovrò ora procedere scambiando quello che sono le lavorazioni per cui lavorerò sempre la mia maglia di vivagno e dove trovo la rovescia lavorerò il diritto proseguirò sempre con tre maglie a grana di riso queste saranno la nostra costante dove ho le due rovesce lavorerò a diritto e proseguirò con tre maglie a grana di riso dove trovo le due rovesce sempre le due diritte proseguirò mantenendo questa impostazione fino alla fine per cui alle ultime due maglie dove troverò il rovescio lavorerò il diritto e la nostra maglia di vivagno una volta impostato questo lavoro dovrò proseguire per un totale di 54 ferri ok adesso ve lo mostro così potete capire vedete è una manica molto ampia per cui non servono sicuramente né diminuzioni né aumenti proseguite così tranquillamente fino arrivare al ferro 54 dove noi dovremo procedere per formare lo scalfo arrivata all'altezza degli scalfi io dovrò intrecciare tre maglie per lato sia sul davanti che sul dietro vediamo ora come procedere maglia di vivagno una diritta perché la nostra costa a cavallo la prima maglia alla seconda e io ho diminuito una maglia ora sono sulle tre maglie a grana di riso per cui scambio sempre la lavorazione perciò lavoro un rovescio a cavallo la prima maglia alla seconda e io ho diminuito due maglie ora sono sul rovescio lavoro il diritto a cavallo la seconda maglia alla prima e io ho terminato proseguo ora mantenendo sempre la lavorazione che mi trovo sotto per cui lavorerò ancora una maglia grana di riso proseguirò sulle coste ancora tre a grana di riso ovviamente scambiando la lavorazione e termino la riga in questa maniera vedremo poi in seguito come intrecciare sul rovescio abbiamo terminato la nostra riga sul davanti e siamo pronti per affrontare l'intreccio delle tre maglie sul rovescio per cui vediamo insieme come fare allora sempre la nostra maglia di vivagno incontro la prima maglia che è un rovescio della nostra costa a metà chiamiamola così lavoro ovviamente il rovescio e a cavallo la prima maglia la seconda ora ho le mie maglia grana di riso proseguo lavorando un rovescio visto che sotto mi trovo il dritto a cavallo la prima la seconda e io ho diminuito due maglie proseguo lavorando un dritto a cavallo la prima alla seconda ed ora proseguiamo mantenendo la lavorazione sottostante per cui tenendo sempre le nostre coste e le nostre costanti delle tre maglie a grana di riso una volta terminata questa questo ferro dovremo poi proseguire le diminuzioni interne sia sul davanti che talvolta anche sul retro vi farò vedere come fare tenete sempre a portata di mano carta e penna per tenere segnato il numero delle righe così non potete sbagliarvi e ci vediamo una volta finito il ferro siamo arrivati al ferro 57 ed ora dovrò diminuire internamente una maglia per lato all'interno della prima e dell'ultima maglia lavoriamo sempre la maglia di vivagno ed ora per il lato destro dovrò diminuire due insieme a diritto come vedete io vado a lavorare due insieme a diritto in sostanza io dovrò calare questo primo punto che corrisponde alla grana di riso e devo andare a lavorare per mantenere la nostra costa per cui lavoro insieme due maglie a diritto e proseguo la lavorazione con l'impostazione data per cui lavorando sempre le nostre coste e le tre maglie a grana di riso proseguiremo mantenendo appunto questa lavorazione fino alla fine della riga dove dovremo diminuire dall'altra parte ovviamente per bilanciare lavorando un accavallato semplice ora una volta che siamo arrivati vediamo insieme come fare ok ci siamo quasi mancano una manciata di punti ok perfetto sono arrivata io devo fare l'accavallato farò un accavallato diritto perché ovviamente andrò a calare la maglia della grana di riso dovrò fare la costante delle coste per cui la prima maglia la passo sul ferro di destra senza lavorarla proseguo con un diritto a cavallo la maglia non lavorata come vedete io ho fatto anche la mia diminuzione sul rovescio del lavoro lavoreremo le maglie come si presentano effettueremo nuovamente una diminuzione all'interno delle prime due maglie prendete bene nota al ferro 59 e 61 arrivati al ferro 62 noi dobbiamo fare una diminuzione anche sul retro del lavoro e vediamo insieme come farla sempre la mia maglia di vivagno ed ora lavorerò qui in questo caso due insieme come vedete io sotto due rovesci perciò andrò a lavorare due insieme a rovescio proseguirò calcolando e valutando bene la lavorazione sotto per cui manterrò sempre le mie tre grana di riso proseguirò con i due rovesci e andrò fino alla fine della riga dove lavorerò un accavallato semplice ovviamente per pareggiare le cose proseguo vi faccio vedere ancora una volta come diminuire mantenendo sotto la lavorazione dopodiché il gioco è abbastanza facile sarà ripetitivo vi do il numero delle righe su dove intervenire lavorando sul davanti e sul dietro e finirete tutto in un baleno per cui sono arrivata alle mie ultime tre maglie per cui una di vivagno e qui devo a fare un accavallato semplice perciò devono lavorare a rovescio faccio passare la prima maglia senza lavorarla prendendo la rovescio filo davanti e lavorerò la seconda a rovescio prendo la maglia non lavorata la cavallo e io ho fatto la mia diminuzione terminerò poi con una maglia diritto che la nostra maglia di vivagno dovrò ripetere nuovamente queste diminuzioni sul davanti al ferro 63 65 e 67 al ferro 68 anche sul dietro proseguirò con il ferro 69 dove dovrò fare una diminuzione per lato sempre sul davanti al ferro 71 73 75 al ferro 76 una diminuzione per lato anche sul retro e al ferro 77 in treccio le maglie che sono rimaste provvederemo a fare un'altra manica alla stesso modo una volta che cuciamo vi ricordo che dovrete ricordarvi che il primo pezzo sarà risvolto per cui sarà vista proseguiamo cucendo tutta la manica cuciamo il nostro davanti al dietro i nostri due davanti al dietro le spalle e inseriamo nell'alloggiamento degli scalfi le maniche lo step successivo sarà quello di prepararci per lavorare per formare il collo come vi ho detto precedentemente dobbiamo prima cucire le spalle e i fianchi del nostro cardigan sicuramente sarà abbastanza ingombrante di conseguenza se non volete avere un peso eccessivo sulle gambe potete decidere di cucire le maniche in un secondo tempo e preparare prima il collo avremo bisogno per questa operazione di due ferri con il pomolo come vedete per non far cadere i punti di una qualsiasi grandezza senza nessun problema anche perché vi serviranno semplicemente per raccogliere come vedete l'asolina che noi andiamo a realizzare ogni volta che passiamo un punto senza lavorarlo a diritto e questa qui sarà comunque una sorta di marker per capire dove andare a raccogliere il punto e che in questo caso ogni volta che incontrerete questa specie di nocciolina dovete sempre lavorare una maglia diritta o rovescia a seconda di quello che la lavorazione vi richiede e aumentarne una successiva nello stesso punto bene vediamo come procedere io prendo il mio ferro ora ovviamente per esigenze io non sto a rifarvi completamente il collo però vi do delle indicazioni su come realizzarlo senza alcun problema da sul davanti del lavoro noi andremo a prendere quelle noccioline che vi ho fatto vedere precedentemente andrò a caricarle così io adesso riesco ancora a vederle come vedete anche se ho già realizzato il collo per cui andrò con la punta a prendere la nocciolina ok e raccoglierò tutte le nostre noccioline chiamiamole così per quanto riguarda il davanti e lo scollo arrivati sul dietro ovviamente avendo cucito le spalle io avrò a disposizione le maglie che ho chiuso che hanno intrecciate tutte per la riga finale e qui dovrò utilizzare il nostro ferro numero 9 e andrò a raccoglierle sempre così saranno un totale di 15 perché se abbiamo fatto tutto giusto le maglie da raccogliere saranno 15 lascio in sospeso queste come lascio in sospeso quelle che ho raccolto e con l'altro ferro io vado a fare lo stesso operazione da questa parte per cui dall'altro dall'altra metà del davanti vado sempre a raccoglierle con tutta tranquillità sarà non un lavoro difficile ma solo semplicemente un po' laborioso di conseguenza se avete raccolto poniamo sul lato destro sto dicendo una sciocchezza ma forse siamo quasi comunque a quel numero lì 35 su 35 noccioline sulla metà davanti prima dello dello sbieco ovviamente dovrete anche da questa parte mantenere lo stesso numero di maglie una volta terminata questa operazione lascio in sospeso entrambi i ferri e vado a riprendermi le maglie del collo e vi lavoro due ma due ferri a rasato diritto per cui visto che ho raccolto le maglie sul rovescio io comincerò sul davanti a lavorare due ferri di andata uno di andata e uno di ritorno sul primo a rasato diritto e secondo sul rasato rovescio una volta terminate queste due operazioni fate in modo di segnare qui sicuramente si vedono meglio la maglia centrale del nostro capo qui forse non si vede granché comunque centrate la maglia per cui se abbiamo raccolto 15 maglie ovviamente la centrale sarà 7 e 7 dall'altra parte la maglia centrale ve la segnate con un marker o con un filo perché perché andremo a fare degli aumenti come vedete internamente per cui dobbiamo sempre tenere ben presente questa maglia centrale e come procederemo dal terzo ferro infatti dovremo andare a riprendere le maglie che io ho raccolto dallo scalfo allora adesso faccio una cosa velocissima così vi mostro come fare vi mostro come fare e dopo ci vediamo per il fatto che io abbia già lavorato due ferri sulle mie 15 maglie della scollo nuca dietro adesso spillettina o marker che voi volete vado a segnarmi la maglia centrale per cui due quattro sei sette da una parte due quattro sei sette dall'altra questa centrale la segniamo con una spilla come volete voi un marker sappiamo che la maglia centrale dove dovremo poi ovviamente aumentare delle maglie a lato internamente ora dovrò proseguire a raccogliere le maglie sui due lati sugli sbiecchi dei due davanti dovrò prenderle prima sul lato sinistro e poi a andrò prendere sul lato destro come fare arrivati a questo punto una volta terminate le nostre 15 maglie fate attenzione perché è un po scomodo da lavorare e dovete prestare molta attenzione perché dovete ricordarvi che ad ogni nocciolina che noi abbiamo raccolto corrispondono due maglie per cui ne troviamo una raccolta e dovremo aumentarne un'altra nella stessa maglia per cui al terzo ferro io dovrò prendere rimettere su questo ferro grande quattro maglie per cui due me le trovo dalle noccioline e due dovrò lavorarle internamente per cui facendo degli aumenti come vedete io una l'ho già presa vado a prendere la seconda ci lavoro un diritto senza far cadere il filo ci lavoro un'altra maglia dopodiché giro il lavoro perché è una sorta di ferri accorciati chiamiamoli così per cui con tutta calma e tutta la nostra pazienza vado a girare il lavoro piano piano lavorerò il ferro a rovescio anche su queste maglie che io ho avviato a nuovo per cui la prima maglia lavoreremo a rovescio è in questo caso la lavoriamo proseguo per tutto ferro piano piano ci arriviamo e vado a fare la stessa cosa dall'altra parte ok per cui una volta che noi terminiamo le maglie abbiate pazienza e non avevate premura su questo lavoro perché è davvero un lavoro più che altro laborioso non è difficilissimo basta solo tenere bene a mente gli aumenti anzi poi un consiglio prendetevi carta e penna così io vi do il numero delle maglie da raccogliere e anche i relativi ferri dove fare gli aumenti al centro piuttosto che le maglie da prendere in maniera laterale oramai ho quasi finito anche per io sto lavorando un collo su un collo in sostanza lavoro l'ultima maglia a rovescio che è un pochino perché il filo di avviamento chiamiamolo così io non ho raccolto bene le maglie da questo lato però faccio finta che io li ho in totale per cui una nocciolina due noccioline in questo caso proseguo aumentando ovviamente nella mia nocciolina un'altra maglia perché devo prendere le quattro maglie che ho fatto sul davanti dovrò farle anche sul dietro per pareggiarle per cui la prima maglia andò a prenderla a rovescio ci lavoro un altro rovescio all'interno ripeto abbiate pazienza perché se vi scappano i punti poi c'è il rischio di rifare tutto il procedimento ecco qua ci siamo vado lavorare il rovescio fate scivolare un pochino le maglie se avete difficoltà ops anche a me a volte succede ok vado a lavorare sempre un altro rovescio e faccio un aumento in questa maglia come prendendolo da sotto vedete faccio vedere meglio ho lavorato un rovescio con questo ferro col ferro di di destra faccio una sorta di rotazione vado prenderlo da sotto carico il filo sfilo e faccio cadere il ferro ok e qui ci siamo le prime quattro le abbiamo aumentate e vado sempre a lavorare le mie maglie con il ferro numero 9 siamo arrivati al quinto ferro dovrò in questo caso oltre ad andare a riprendere le maglie sul davanti dovrò anche lavorare un aumento centrale per cui lavoreremo sempre la prima maglia diritto in questo caso in questo caso ripeto le lavoriamo tutte piano piano arrivo al centro ops mi è stappato un punto vado piano piano allora io poi devo lavorare anche a favore di camera faccio anche un pochino più fatica voi sicuramente avrete meno problemi per cui come vi ho ripetuto già carta e penna portata di mano e segnatevi tutto ok sono arrivata alla maglia centrale in questo caso dovrò aumentare una maglia a destra e a sinistra come fare il ferro di sinistra lo vado a posizionare per prendere l'anellino sotto ecco lo porto sul ferro di sinistra e ci lavoro un diritto crociato proseguo a diritto proseguo a diritto sulla maglia centrale e ora devo fare l'altro aumento sempre mantenendo la nostra maglia centrale come discriminante come faccio vado a prendere sempre l'anellino sotto lo porto sul ferro di sinistra ci lavoro un diritto crociato da sotto e faccio la mia maglia diritta successivamente ci lavoro un altro diritto crociato e proseguo fino a esaurire le maglie che ho sui ferri numero 9 perché poi giustamente devo andarmi a prendere nuovamente le maglie per formare il collo piano piano ci arriviamo e dobbiamo prendere anche in questo caso 4 maglie per lato ok vi faccio vedere nuovamente il sistema dopodiché vi do semplicemente il numero dei ferri in cui dovete aumentare le maglie centrali e il numero di maglie da riprendere sono arrivata in fondo devo riprendere quattro maglie per cui devo riprendere in sostanza tecnicamente due canette ok come faccio vado a prendere la nostra maglia la largo leggermente lavoro un diritto non faccio cadere la maglia vado a lavorare all'interno della maglia un'altra maglia diritta e faccio cadere entrambe proseguo con lavorando una maglia diritta all'interno senza farla cadere faccio una sorta di rotazione dentro al centro e ci lavoro un diritto crociato e io ho aumentato quattro maglie farò la stessa cosa dall'altra parte e andrò a prendermi quattro maglie dall'altro lato ora il metodo è lo stesso vi do semplicemente il numero dei ferri e il numero delle maglie da dover raccogliere siamo arrivati al quinto per cui al quinto quattro maglie da un lato e quattro maglie dall'altro prendetevi bene gli appunti al ferro numero 7 anche qui quattro maglie a destra quattro maglie a sinistra in questo caso quattro maglie a sinistra e quattro maglie a destra ok il senso è quello al ferro numero 9 dovrò aumentare una maglia centrale come abbiamo fatto e visto sempre la mia discriminante è la maglia centrale se avete problemi spostate il marker ok e io andrò a lavorare un aumento sulla maglia che abbiamo fatto prima aumentata in precedenza per cui sempre a lato della maglia centrale e in questo caso dovremo prendere quattro maglie e raccogliere quattro maglie per lato alla fine dei nostri ferri come per il ferro numero 11 al ferro numero 13 aumenteremo sempre una maglia centralmente e andremo a riprendere quattro maglie per lato al quindicesimo ferro riprenderemo quattro maglie per lato nel diciassettesimo diciannovesimo ventunesimo e ventitresimo attenzione qui ne prenderemo tre come fare semplicemente allora in questo caso poniamo che io sia arrivata al mio diciassettesimo ferro arrivo in fondo devo raccogliere le mie tre maglie come faccio la prima normalmente ci lavoro un diritto ci lavoro un diritto crociato e faccio cadere le mie maglie e sono due in questo caso che io ho ripreso devo riprenderne una terza attenzione faccio una maglia la scarico e questa la lascio in attesa sul ferro di sinistra per poi ovviamente andare a recuperarla nella successiva ripresa delle maglie per cui diciassettesimo diciannove ventuno e ventitre sono tre maglie abbiamo esaurito le maglie centrali da aumentare per cui li potete andare via tranquillamente per il venticinquesimo e ventisettesimo ne riprenderemo quattro per lato attenzione ventinove ne riprendiamo cinque per lato per cui come vi ho fatto vedere nel caso fossero dispari una maglia resta sempre in attesa sul ferro di sinistra e vi conterà ovviamente con una maglia nel ferro successivo per la ripresa nel ferro 31 e 33 attenzione bene ne raccoglieremo sei di maglie stesso metodo per cui una me la trovo sul ferro e uno la aumento nel ferro 35 ne riprenderemo otto per ogni lato e dovremmo avere esaurito tutte le nostre maglie di ripresa adesso arriva il lavoro un pochino più complesso chiamiamola così perché dobbiamo lavorare un ferro uno solo a maglia rasata diritta su tutte le maglie raccolte ecco da qui in avanti la nostra lavorazione a maglia rasata è terminata perché dovremmo nuovamente lavorare tre ferri su tutte le maglie a grana di riso semplice ok? una volta terminate quelle noi dovremo chiudere tutte le nostre maglie come faremo? datemi un attimo di pazienza che io faccio una maglia a grana di riso e poi vi faccio vedere come chiudere bene abbiamo lavorato su tutte le maglie i nostri tre ferri a grana di riso e ora dobbiamo procedere ad intrecciare tutte le maglie poniamo che io abbia fatto ciò che vi ho detto per cui arrivati alla prima le prime due maglie io lavorerò insieme due maglie a diritto perché fa fede la seconda maglia in questo caso grana di riso vi ricordo che dobbiamo scambiare le maglie per cui io lavorerò le prime due a rasato a diritto esatto due insieme a diritto ok? non lascio cadere il punto ma lo riporto sul ferro di sinistra fa fede la seconda? perfetto io dovrò lavorare due maglie a rovescio due maglie insieme a rovescio non faccio cadere la maglia la riporto sul ferro di sinistra con un po' di pazienza ci arriviamo allora prima di passarla faccio scivolare il filo dietro perché dovrò lavorare a diritto visto che fa fede la seconda maglia per cui procederò lavorando due insieme a diritto ok? non faccio cadere la maglia porto il filo in avanti visto che dovrò lavorare a rovescio riporto la maglia sul ferro di sinistra e lavoro due a rovescio non faccio cadere la maglia porto il filo dietro rifaccio passare la maglia del ferro di destra su quello di sinistra fa fede la seconda? lavoreremo a diritto e così fino ad esaurire tutte le nostre maglie dopodiché fisseremo i punti fisseremo i fili inseriremo le maniche nel loro alloggiamento se avete voglia e volete sbizzarrirvi potete prendere un po' di passamaneria in merceria e fare questi bellissimi ghirigori con questo spice di tubolare con delle perline oppure con qualsiasi tipo di passamaneria sia nei vostri gusti il nostro lavoro è terminato è stato effettivamente un progetto molto laborioso vi auguro un buon lavoro con i prodotti 3 sfere e al prossimo tutorial ciao